La Regione Abruzzo sta valutando l'istituire un hub per profughi nel territorio regionale, ma il Comune di Sulmona non ha avanzato nessuna candidatura. E quanto precisa il primo cittadino del capologo Peligno, Peppino Ranalli, sulla presunta collocazione a Sulmona di un centro primario di accoglienza per profughi nella caserma della scuola di polizia penitenziaria. L'intenzione della Regione è quella di creare un centro per profughi, me ne ha parlato l'assessore Marinella Scrocco, riferisce il Sindaco, ma come primo cittadino non ha avanzato alcuna proposta. A chiedere spiegazione all'amministrazione comunale è stato ingiornato il vice segretario regionale della UIL Penitenziari, Mauro Nardella, in una lettera indirizzata proprio al Sindaco di Sulmona e al direttore della scuola di formazione, Massimo Di Rienzo. Secondo Nardella non solo non sussistono le condizioni per accogliere profughi, ma la caserma non è affatto vuota, visto che da tempo sono attivi corsi di formazione per nuovi agenti. La città al momento ricordiamo che sta ospitando 20 profughi nell'ex IPAB locale della Casa Santa dell'Annunziata. È scattata una vera gara di solidarietà grazie al comitato Sinesolo, che chiama a raccolta oltre 300 professionisti che si occupano dell'accoglienza dei profughi. In questi giorni uno di loro, Joshua, sta sfilando anche nel corteo della Cordesca la giostra dei bambini. Grazie. Grazie.